Però c'è anche un altro giovane brillante che è italiano, che è Federico Fantechi, che è lì, eccolo lì. All'indomani del 2016 di European House, Ambrosetti si è impegnata a finanziare una borsa di studio in dottorato triennale per un progetto di ricerca nel campo della resilienza nei territori più colpiti dal sisma. Tre anni fa lei è stato selezionato e ha vinto questo progetto. Di che progetto si tratta? Vedo che ho un microfono, ci puoi rispondere. Sì, grazie. Molto rapidamente. Ci occupiamo di resilienza, che altro non è che una misura per comprendere quanto una comunità sia in grado di affrontare uno shock oppure una crisi. Nel nostro caso studiamo i terremoti, quindi quanto una comunità sia in grado di affrontare un disastro naturale. Quindi cosa abbiamo fatto? Io, assieme al team di ricerca che mi ha affiancato in questi anni, ci siamo messi a studiare le comunità del centro Italia e come queste comunità colpite dai terremoti negli ultimi vent'anni abbiano affrontato queste crisi e soprattutto quali è che siano le caratteristiche principali di queste comunità. Quello che abbiamo imparato lo abbiamo poi applicato a un caso pratico, ovvero sia le comunità colpite dal sisma del 2016. Da questo abbiamo derivato uno scenario che ci indica, da una parte, quali è che sono le comunità che maggiormente sono in grado di affrontare questa crisi, questo terremoto e riprendersi meglio. Ma dall'altra parte ci indica anche quali è che sono le caratteristiche principali su cui si può lavorare a livello di pubblica amministrazione, a livello di investimenti, delle comunità che meno sono in grado da sole di affrontare queste crisi e queste problematiche. Grazie, grazie e ancora complimenti. Prima vorrei sentire però il Rettore per questo formidabile risultato raggiunto. Prego. Sì, no, appunto il Gran Sasso Science Institute di cui appunto Federico è uno degli studenti migliori è nato dopo il terremoto dell'Aquila ed è nato quando gli esperti dell'Ox proposero appunto diciamo che l'Aquila potesse andare nella direzione di una città della conoscenza, nella direzione dell'innovazione, della ricerca. Quindi aggiungendo all'Università degli studi dell'Aquila e ai laboratori del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale Fisio Nucleare anche una scuola di dottorato internazionale in fisica, matematica, computer science e social science appunto, economia. Siamo l'Istituto Universitario più internazionalizzato d'Italia, quasi il 50% degli allievi viene da tutto il mondo. All'Aquila stiamo contribuendo insieme a tante altre cose che stanno succedendo all'Aquila, come la scuola internazionale dall'asilo al liceo, la prima pubblica in Italia, come il collegio diffuso per cui il patrimonio immobiliare rimesso a nuovo di molti appartamenti nel centro storico verrà dato per studenti, ricercatori, quindi dando alla città della conoscenza un'ottima opportunità. Grazie, grazie.